Salve a tutti ragazzi e bentornati da Meshowsha, siamo tornati su Clash Royale E oggi ragazzi in compagnia mia non c'è Jumpy Tech ma c'è Brazzo Crew Brazzo Crew Ragazzi come vi avevo detto qualche video fa, finalmente è uscito anche l'aggiornamento tanto atteso E guardate qui, sono usciti, no, non guardate lì che sono tutte le mie sconfitte Sono stati introdotti i tornei 4 nuove carte, gli spiriti di ghiaccio, il bocciatore Il boscaiolo e il tronco C'è una nuova arena, c'è l'arena di ghiaccio dove possiamo sbloccare tutte queste belle carte Però ragazzi ero proprio uno spudo per arrivare all'arena di ghiaccio Ho detto vabbè mi faccio una partita e ci arrivo così iniziamo a spacchettare come lo schifo E invece ragazzi Clash Royale ha deciso che? Che ha deciso Brazzo? Ha deciso che è scriptato quindi non ti devi far vincere La stessa cosa è successa a me, da 2500 quasi 600 trofei sono scesa a 2002 qualcosa Quindi ho spacchettato ugualmente Guardate qua ragazzi, sconfitta, sconfitta, pareggio, sconfitta, vittoria, sconfitta, sconfitta Perché non sai giocare? No, ragazzi, perché quando devi perde, perdi Però ragazzi, il buon Brazzo Crew ha spacchettato lo stesso e ha trovato Ho trovato il tronco E beh, anche perché se il tronco non lo trovava a Brazzo, ragazzi, chi lo doveva trovare? Quindi ragazzi, qui trovate il video di Brazzo Crew Perché non ha trovato solamente il tronco ma anche altre tre leggendarie Andatevi a vedere il video Ma adesso ragazzi, che facciamo in questo video? Andremo a testare la potenza dei tronchi E quindi io mi farò un deck con scheletrini, goblin, peggio schifo E quando saranno tutti sul campo, Brazzo tirerà il suo tronco, capito? Quindi proprio te lo stacchi E lo prenderò a troncate Esatto, esatto E vediamo un po' quante cose riesce a far fuori il tronco Sarà probabilmente la cosa Ragazzi, il devasto più assoluto A parte che qua ci abbiamo già due bei tronconi Ok, sei pronto Brazzo col tuo tronco cionco? Sono pronto, sono pronto Ma tu c'hai il tronco cionco? C'ho il tronco cionco È un po' storto Quindi ragazzi, mi raccomando Superiamo i 25 milioni di piace per questo video su Clash Royale Torniamo poi a spacchettare come schifosi Però questa cosa sarebbe stato figo farlo con lo sbocciatore Perché lo sbocciatore, lui sa che fa Ha una palla gigante Io c'ho il tronco, lui c'ha la palla È verissimo proprio Gli rabbi aggiornamenti proprio Eccoci qua ragazzi, siamo pronti Quindi, vi ricordo Noi cercheremo di mettere più scheletrini in campo possibili E Brazzo Crew dovrà tirare il suo tronco cionco Sei pronto Brazzo? Sì Guarda già come inizia a tirare roba Ma stai a spuma roba Non c'hanno tutti questi Ok, ok ragazzi Io sono già pronto Brazzo Io no, io ancora no Non c'hai il tronco? Adesso mi è apparso Però aspetta Non c'ho il lisir Volevo mettere una cosa del lisir Vabbè, metto dopo No vabbè, non mi serve Io ce l'ho Siamo pronti ragazzi Guardate qui gli scheletri Uno Due orde di scheletri Oddio Aspetta, aspetta Oddio Vai così Vai così ragazzi Guardate quanti scheletri Oh Guardalo Mamma mia No Cioè li distrugge Tutti li ha uccisi Tutti Doppio Ho tirato due volte Cioè sei riuscito pure a tirare Vabbè Vabbè Comunque a questa ragazzi Dobbiamo mettere più roba possibile Brazzo ci deve riuscire a contrastare Guarda Guarda lui quanto spawna Niente credo Sono tutto C'è una cosa Metti tutto 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 Metti tutto Vai Oh ma quanto è lento Oddio 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 No L'ho appena No No Li ho mandati a morire Mandati a morire Vai ragazzi Adesso mettiamo il devasto Vai ragazzi Mettiamo pure i goblin Vai così Tutti dentro Oddio Tutti all'altra parte Stanno venire Tutti dentro Oddio Tutti dentro Guarda qua Guardate qua Ma esplode Oh ma esplode il gioco Ragazzi Ma esplode il gioco Non so quante mila scheletri Li conterò Dai 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 ragazzi Dai Tutti Mettiamo tutto Mettiamo tutto Tutti qui All in the box Madonna non c'ho più niente Vai Dai ragazzi Che lo annientiamo Che cosa sta succedendo Guarda 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 Sono le cose dell'isir Che esplodono Che effetto strano Tutti morti Tutti morti Cioè ragazzi Ok Oddio Ma è rotto Ma è rotto Ma è crepato 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 Cioè è incredibile Li devasta proprio Ok che è la carta fatta apposta per devastarlo Però porco bue Non pensavo così Cioè L'hai risciato L'hai risciato L'hai risciato E vabbè Sponi come Eccolo Eccolo Ti è come Quello è sangue Quello è sangue Il sangue dei miei Dei miei amati fratelli goblin Dai Andate a buttargli giù la torre Amici miei Oddio E vince lui Me l'hai buttato giù Tu sei concentrato sui miei scheletrini Vabbè ragazzi Dai che per questo video Possa essere tutto E' stata una cosa un po' strana Perché Un po' diversa Dagli altri video In cui cerchiamo di spawnare Più roba possibile Perché Questa volta avevamo conto Volevamo proprio testare La potenza del tronco E avete visto ragazzi Che li fa fuori tutti Tutti E' una figata Pazzesca roba E' figo vedere a morire tutti Proprio addio Per adesso ragazzi Fatemi sapere sotto nei commenti Che ne pensate E avete trovato per caso Il tronco Superiamo i 30.000 mi piace Per un nuovo spacchettamento Io ringrazio Brazzocru Grazie a te Per essere state In mia compagnia Passate sul suo canale Andate a vedere Il video in cui Ho trovato Un 18.000 leggendari Nello stesso Paco opening Quindi ragazzi Appuntamente per il prossimo video Un saluto a tutti Da Mike Shosha Alla prossima Ciao ragazzi Ciao Ciao Il bollo ma la bolla Il passerò la passerà Ma tutti quanti amano Mike Shosha Tutti quanti amano Mike Shosha Alla prossima Alla prossima